Un tuffo dove l'acqua è più blu Tu pensa al mare, io penso a mangiare Il solito poeta Guarda questa carne, parla da sola Perché è carne di produzione propria? Lo vedi il forno a legna? È esaltante per ottime pizze o succulenti grigliate E poi specialità tipiche calabresi La baita sulla roccia mette d'accordo tutta la famiglia L'ideale per battesimi, compleanni, cresime e comunioni La baita sulla roccia Sulla Statale 111, località Passo Zita, 5 km da Gerace